da me grazie allora diciamo che non è per niente male l'arco ma se tu hai detto che si è avviato adesso il gioco allora nemmeno marco che che o sì ma non significa che l'ho avviato adesso quindi c'è quindi c'è di tutto e non sai come si usano l'ho usato qualche volta l'arco della creta è detto adesso che inviata il gioco sì ma avviato il senso nella giornata crepino cretino non non nella lilla un giorno c'era c'era qualcuno trullallero trullallano in quel giorno ma ha detto crepino cretino o ma lo sei ma tu stai seguendo i social io sto seguendo uno che si non so già il boom che veramente c'è ricordate ma non è che c'è un nemico perché ho sentito una balla la palla e h ma forse perché le si è persa capito è caduta ma c'era l'acqua c'è una balla qua però non so di chi e sono solo skateboard ai no ma io sento che io provo sempre una balla deciso a tutte e due forse lo avete perso a voi mi sono confatto ciao ciao volare cantare la 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 volare ragazzi ma lo sapete che è una una cosa cosa che ragazzo a cannes a cannes di basco dovevo fare metti acqua cambine non mutavo durai non lo sapevo capire dove giro da questo che c'è renato dove hai trovato acquisti nel luogo di pace ma io lo sapevo e c'era a casa già c'è a scuola a casa c'è quanto strano mario mi demolizione cecchino ok vieni e ragazzo l'ho mutato il solito di un gioccio più sicuro quando ne avevi dove l'hai trovato tutte se munizioni a tutti della data ma davanti a tutta è la fine del mondo mi dico pp 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 an fino a bp pyssipala ppp e si 착ora puigliano piscialla Gabriele a mio不是啊 Gabriele è tutto dove l'avete trovato a questo? raga rilanciarazzi leggendario non ci sono di la terapia pulizioni lanciarazzi me lo potete la terapia cascari o tre fatti dito 4 3 mani dito 4 cd remedi 3 medici a due medici tra quattro centini grazie comunque se volete orricchi e mentre cari sopra cosa e mentre che lo fidavi lo scar era mio è sergio sergio perché a parte che l'hai troppo ci sono prima arrivato io l'ho aperto dove lo star ha detto dove lo scuola ma il questo il mio pubblica sì che amica amica è rotto però è morta pure lei andiamo il 6 è vero ragazzi se volete un ritmo no va bene e lo so grazie mario non c'è il trucco con la palla c'è gente ora c'è gente lasso ma ma guardiamo guardiamo andiamo andiamo eh ma non c'è Renato poi lo viste e la pressa Gabriele io l'ho lasciato la oh gabrie scendi si ho visto prima vinta c'era gente non c'è gente ma c'è gente qui penso non è vero vai me che guida eh Renato eh Gabriele fai andare Renato così puoi sciarmi è Renato no no possiamo tutti insieme oh no no eccoli 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 e davanti no miro davanti a te va e ciao 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 buongiorno che c'è ciao 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 ho un aspetto migliore un aspetto reale dell'aspetto verde c'è una scarcola munizioni munizioni assalto munizioni assalto fammi curare fammi curare come curare ma di che c'è i miei di ammunizioni assalto e io poco cioè l'aggianto io ne ho cercato viene il cuore ma che mi servono io sei mi ha avventato però fate di te lo spettano da te mini 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 città come mi ha fatto un anno è nato vieni con me cosi è il mio vabbè ma questo sono fatto male gas ragazzi bussiamo fa da presto ma dove siete una vecchia non mi fa prendere da te che ho appena curato per favore io non ti preoccupare c'è stato troppo dov'è vincere non devi parlare ho messo i miei che c'è nemici c'è nemico non devi occupare cosa è stata tutta quanto è morto quando gli è tosto 70 o quasi questo non mi ricordo ok bianchissimo non fate aiuto mi chiede un aiuto e raga però che cavolo a l'ho detto pure mi chiede un merito viene quando il murio ce l'ho mannaggia che mario che parli sempre ricordati quanti colpi ti ho dato a dio e se mi puoi riusciare un po' di quanti colpi e non mi colpi ma mi aspetta che disse non fa niente però cioè mi soddisfatto e chi me ne mi chiamate mia mamma no ma è il vino che dice pure sì tanto la vinciamo ciao